Non solo il Covid ha togliere il sonno ai produttori di componenti per auto, 9 su 10 sono preoccupati per le conseguenze della pandemia ma spaventano anche le nozze Fiat Peugeot. Antonio Sgobba. La crisi sanitaria del 2020 si abbatte anche su un settore già in difficoltà, quello della componentistica dell'auto. Nel 2019 il fatturato era già calato del 3,9% in Italia e del 4,8% in Piemonte. Secondo un sondaggio commissionato per l'Osservatorio 2020 del settore, per il 90% delle imprese ora crescono i timori su ordinativi e occupazioni. Nel settore il Piemonte rimane la regione più pesante in Italia, con più del 33% delle aziende e il 38% del fatturato nazionale. Si parla cioè di 736 imprese con un fatturato di più di 18 miliardi e 60 mila addetti. Il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, chiede un maggior sostegno. E' ancora di più un settore fondamentale per la crescita, sul cui speriamo veramente si innestino delle politiche industriali nazionali forti, anche per la ripresa dei consumi, anche per stimolare gli investimenti e le innovazioni. In Piemonte i produttori di componenti sono sempre meno dipendenti dal gruppo Fiat Chrysler. Nel 2019 erano scese al 73% le aziende che avevano il gruppo fra i clienti. Cinque anni prima la percentuale era all'87. Ora molti di loro guardano con favore alla nascita di Stellantis, anche se viene visto come un rischio lo spostamento delle decisioni verso l'estero. E un'impresa su tre è preoccupata dalla possibile riduzione dei volumi di fornitura in Italia. Grazie.